Signor Sindaco, siamo a inizio mandato. Fra cinque anni, come vorrà lasciare Alessandria? Vorrei che fosse una città normale, come tante altre città che vivono di vita propria, una città vivace, una città collegata a livello internazionale, non solo più una città dei rifiuti, tra virgolette, non solo più una città dei dimenticati, una città che si collega al mondo con degli eventi di notevole livello in cui si vive bene, in cui tanta gente magari da città più importanti come Milano cominciano a venire ad abitare Alessandria perché bella e comoda e soprattutto magari costa anche meno di vivere a Milano. Quindi una prospettiva internazionale che si basa sulla valorizzazione delle cose positive che Alessandria certamente ha e che si è forse dimenticata e che ha bisogno semplicemente di andare a ripescare nel suo passato più o meno remoto e di riproporre all'onor del mondo.